Comunque, partirei. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Volevo dire a tutte ma mi sono confuso, scusate. Gets a scare in per i dieci mesi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Benvenuti ad un'altra serata GeForceNaut, GeForceThursday, per essere precisi perché oggi è giovedì. Questa sera giocheremo due ore a fare i petauri dello zucchero. Vi assicuro che non c'entrano niente i peti, anche se potrei farne alcuni durante la live. Magari no. Dopodiché, finita questa petaurata, ci infileremo a vedere Harry Potter. Green, non ti... Oh, no, assolutamente. Provare a freschiare e vedi un po' che succede. Ma siamo qui stasera, ecco qui, per parlare di GeForce Now, l'azienda Nvidia che ci sponsorizza e ci vuole bene ormai da una vita. Cos'è GeForce Now? Ma è facilissimo, sono qui a poco. Come se mi pagassero per raccontarvelo, guarda. Veramente. Una roba... Comunque. È questo servizio di streaming che vi permette di giocare i vostri giochi che già possedete all'interno dei vostri cataloghi. Ad esempio, ecco qua, possiamo vedere. Mi viene sempre Origin, anche se ormai è diventato EA porca... Porca putta, vabbè, non mi viene... Porca pazienza, porca vacca, che ricordi il porca pazienza. Comunque, EA, Steam, Epic Store, Uplay, voi potete giocare i vostri giochi che già possedete tramite un abbonamento che costa 9,99 al mese ovunque. Infatti potete vedere il televisore tramite l'applicazione su iPad, tablet, qualunque sia, telefoni, computer, anche Mac. Non vi serve avere un computer performante, non vi serve avere la potenza perché vi basta la sola connessione. Infatti giocherete in streaming. Nel mio caso, tra l'altro, giocherò con la 3080, non la mia ma una da remoto perché ho il servizio più fico. Avete la possibilità anche di collegare un Nvidia Shield, ecco qua, vedete, al TV. Oh no, che brutto taglio, ho fatto del monitor, scusatemi. Non ho tagliato bene la finestra, fa un po' caccare, ecco qua, un po' meglio. E la lista dei titoli è in continuo aggiornamento. Infatti ogni giovedì aggiungono altri, grazie Greenfog, nel frattempo per i due mesi. E niente, aspettate e prima o poi arriverà qualunque titolo, credo. Credo che il loro scopo sia mettere sicuramente i più giocati. all'interno del servizio GeForce Now. Stasera non avevano un titolo nuovo da proporre, anche se in realtà che ho visto... Aspettate che tolgo un attimino questa cosa qua, anzi, la riadatto. Scusatemi un attimo, è che dopo dobbiamo anche seguire YouTube e quindi è un po' un casino. Avevo visto che mi hanno aggiunto un po' di robetta interessante. Ecco qua, hanno aggiunto Buchaners, che era interessante. Aerosmith Medieval Simulator, per dire un titolo che abbiamo giocato anche di recente. Bus Driver Simulator e Marta is Dead. Peccato che tutti questi titoli li abbiamo già giocati di recente, altrimenti sarebbero stati sicuramente papabili, papabili. Oltre al fatto che potete giocare anche ad alcuni titoli con RTX on, come ad esempio Cyberpunk, Dying Light, Ghostrunner, Far Cry, Marta is Dead, che lì, tra l'altro, dovrebbe girare anche bene rispetto a come l'ho giocato io, ma annaggia, forse mi conveniva giocarlo direttamente lì. Il Guardia della Galassia è avanti così. Ho visto gli abbonamenti, però viene scritto che vanno in una sessione di 8 ore. In teoria, solo quello gratuito ha un limite di ore. Se tu paghi, non dovresti averle. Guarda, vado a controllare, ma il servizio gratuito ha un limite di 8 ore e ha anche la coda. Se tu invece paghi l'abbonamento, dovresti passare davanti. Ti do conferma a breve, perché sono abbastanza sicuro. Grazie a Danimex per i 47 mesi. Ambonamento. Priority, ecco qua. Ah no, non è vero, chiedo scusa. Sessione di gioco di 6 ore. Non mi sono mai posto il problema, perché 6 ore non sono poche. Io, tra l'altro, con i 19 al mese, ne ho 8 di ore. Figa, non sono mica poche 6 ore, comunque. Ti fai una pausa, ti bevi un caffè e poi riprendi. Grazie a Danimex per i 47 mesi, comunque. Eh, sono tante, 6 ore. Infatti, accesso prioritario, eccolo lì, lo vedevo io. Che tu entri subito, non devi aspettare. Sì, però, Cristian, perdonami, stai comparando la cioccolata con la merda. Che braccio? Non, no. No. Te lo posso assicurare. Con quello gratis, dopo un'ora, ti fanno uscire al gioco e devi rifare la coda. Esattamente è così. Ma infatti, io vi sto sponsorizzando il servizio a pagamento. Grazie a tutti quelli che hai per i 29 mesi. 6 ore sono la metà di 12 ore. Confermo, Lorenzo. Confermo. Sei ferratto in matematica. Complimenti. Comunque, mi sa che la categoria è sbagliata. Ah, dici che non è la way giusto? La risolviamo. C'è un altro away, quindi. Ah, The Survivor. Grazie. Addirittura il logo. Cazzo, non l'avrei mai detto che avesse anche il logo questo gioco qua. Vi parlo un po' del titolo. Allora, l'ho scelto perché è un gioco che gira male su PC. Pochi cazzi. È un gioco che gira male su PC e quindi. Non l'ho giocato prima. Ce l'ho in lista da un bel pezzo. È uscito il 28 settembre. Il motivo per cui non l'ho giocato prima è proprio perché gira male come titolo. Infatti oggi non lo faremo girare sull'hardware nostro, quindi girerà bene. In teoria. Ed è un'avventura dove noi siamo un petauro dello zucchero. Avete presente i petauro dello zucchero? Sono quelli che c'è il nasino così e poi le ali. Sotto i scogliattoli volanti. Quindi è così. Quando fate gli abbonamenti mi insiede su Twitch da 3 o 6 mesi. Dice Q. Ricordatevi di rinnovare manualmente alla fine dell'abbonamento. Altrimenti non avete più lo sconto. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Sì è normale Fede, devi aprire il browser. Era il creeper di Minecraft. Io ho una 3080 nel PC. Quindi sarà uguale. L'unica differenza naturalmente è che quello che vediamo stasera sarà in streaming. Purtroppo non mi hanno ancora messo sulla fibra. Quindi perdonate cali di frame, cali di qualità nella live. Succederà perché succederà al 100%. Se voi giocate per i fatti vostri il problema non c'è. Il problema sarà solamente durante la live perché per forza di cose io sto scaricando dati, giocando e sparando dati nell'etere al massimo della possibilità che attualmente ho per streammare. Quindi è normale che non ci sia una perfezione. Se Dio vuole, entro il 25, in teoria, mi telefonano per prendere appuntamento e dopodiché avremo la 2,5 gigabit e questo problema non esisterà mai più. Quindi arriva sta fibra. Ho chiamato ieri per rompere le balle e mi ha detto entro il 25 la chiameranno. Va bene. Va bene. Esatto, se avete paura per la connessione fate qualche prova col piano gratuito, ovviamente. È lì apposta. È logico, ne ho parlato per tre ore stamattina. Sì. 2,5 gigabit, che bello. I 500 in app. Non vedo l'ora. 25 di quale mese? Beh, sono sempre i tecnici open fiber, quindi arrivederci. Chissà. Chissà. Da me l'hanno posato e mi hanno detto che ci vorrà almeno un mese prima di installarla in casa. No, no. Da me ho chiamato, ho già firmato il contratto e devono venire. 500 in app, sì. Beh, guarda che prima non ne avevo tanti meno, ne avevo 200. Cioè, meno della metà, per carità. Però bastano, eh. Alla fine, per quello che faccio, sì, per caricare i video su YouTube. Però 200 giga, sì, 200 giga. 200 mega in app, cioè, va benissimo per caricare i video, eh. 200 reali, sì. Avevo, era quasi perfetta la fibra nella vecchia casa. Avevo 950 e 198. Una roba del genere. O forse 980. Comunque sopra i 900, molto vicino ai 1000 e in app, sempre un 190, 198. Quindi, va bene. Fai che non arriveranno 2,5 giga perfetti, però già nel momento in cui ne ho uno in down e 200, 300 mega in app, ma io sono contentissimo. E aspettiamo. Le mezzogna è come se ti parli di fantascienza. Tieni duro perché stanno coprendo un po' dappertutto. Ci vuole solo tempo, purtroppo. Solo tempo. Il tempo. È la cosa che ci vuole. Tempo. Scusa. Direttamente con Open Fiber? No. No, 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 Negan, non esiste il provider Open Fiber. Open Fiber è chi mette giù la tecnologia Fibra e tu ti devi appoggiare a Vodafone, adesso non so chi altro, c'è Fastweb, mi pare, anche Iliad. Era Iliad, no? Quella nuova, che si appoggia sempre a Open Fiber. Ce ne sono diverse. Ma va là, Bob, figurati. Settimana prossima inizia un progetto di tracciamento bobine con Open Fiber. Fai come se avessi capito, però, complimenti. Io con i miei 50 mega riesco a vederla benissimo. Ma guarda, per un uso giornaliero normale, la mia misto rame va benissimo. Io ho 70 mega in download, 30 mi pare in app. Mi pare, sì, 20 e qualcosa in app. Va benissimo per fare quello che faccio nel quotidiano. È chiaro che il problema, nel mio caso, giunge per lavoro. Se io devo caricare un video su YouTube, fermo l'intera casa. Per mezz'ora. Ok? Mezz'ora, 40 minuti, si blocca internet in tutta casa, non possiamo fare niente perché sta caricando il video. Puoi fare qualcosa, ma va lentissimo, perché YouTube ciuccia tutta la banda. Scarico un gioco, mi ci vogliono ore. Stamattina, patch da un giga e sei di Elden Ring, per puro culo, l'ho vista. Perché comunque mi ci sono venuti un po' di minuti per scaricarla. Altro esempio, altro esempio che vi faccio pratico pratico, che ho fatto prima. Nuovi giochi. Mi hanno dato oggi la chiave di Ghostwire Tokyo. L'anteprima perché sono un fenomeno. Infatti il lunedì riusciremo a giocare a Ghostwire Tokyo in anticipo di una settimana, praticamente. Sempre per il discorso, non si riesce più ad arrivare puliti al day one perché si gioca prima. Ma vabbè, questo è il solito... Vabbè, fa parte del lavoro e quindi facciamo così. Ghostwire Tokyo pesa 16 giga. E io ho intasato la rete, perché poi dopo Steam, anche Steam ciuccia tutto, per mezz'ora. Che dite? E vabbè, io ci metto magari di più a scaricarla, chi se ne frega cosa sarà mezz'ora. È vero, però io sono strettamente legato alla connessione. Ad esempio, se io dovessi scaricare un gioco per poi giocarlo in live, come facevo nella casa vecchia, non potrei farlo. Perché nel momento in cui scarico un gioco, parte tutto. Per me una patch, anche da pochi mega, da 500 mega, mi incasina la live. Quindi è più per quello. Per tutti gli altri una misto rame, credo che vada tranquillamente. Andare a fibra, meglio. Poi su roba più alta, se c'è, perché no? Però è uno sfizio. Capito? Io per 50 giga ci metto una giornata e mezzo. Eh, infatti, infatti, sono tanti. Però tu non hai neanche la misto rame. Salutaggi in crowd. Ecco, bravo Stefano. Ogni volta che abbiamo chiuso Kingdom Come mi scattava la live perché dovevo caricare i salvataggi. Pulite il day one, che per gente che fa il tuo lavoro è una data diversa, ma pur sempre day one. Allora, vabbè, dico di nuovo questo discorso, poi partiamo in live, perché non vorrei far troppo tardi. È vero. È vero che io ho i giochi in anteprima e per me il day one è prima. Però, come ho sempre detto, io sì, per le mie cuffie, guarda, trovi tutto nel mio link di Amazon. Prima di tutto io sono uno come voi, uno che è appassionato di videogiochi, che gli piacciono e che si diverte a giocarci sostanzialmente. Poi sono diventati il mio lavoro e che io debba essere qui a lavorare, è un altro discorso. Però, io sono prima di tutto un videogiocatore. È vero che sono diventati il mio lavoro, quindi c'è un occhio diverso dai miei confronti verso il media del videogioco, però di base sono un videogiocatore e purtroppo ormai da anni mi si è perso il concetto di day one. Il day one che il gioco esce a quell'ora per tutti e nessuno ha visto niente prima è bellissimo e mi manca da morire. Mi manca, è successo quasi mezzavolta con Biomutant, ma non parliamone, mi manca far parte di questa grandissima community, di qualunque gioco sia, arriviamo, quel giorno esce, non sappiamo niente e ce lo giochiamo tutti assieme. Cioè, addirittura per Elder Ring c'era gente che mi faceva backsitting alle nove del mattino del day one. Per dire, idem per Cyberpunk, idem per Resident Evil 8, cioè ormai non si arriva più al punto in cui tutti assieme, perché a me piace quello, condividere la mia passione, che ovviamente vi do giocare, con voi. E a me piace, soprattutto quando mi scrivono durante le 12 ore, sto giocando insieme a te. Quello per me è il concetto di community che voglio condividere. giocare insieme a voi, anche se stiamo giocando a un gioco single player ognuno. È bellissima quella cosa lì. E purtroppo, anche per colpa del mio lavoro, e me ne rendo assolutamente conto, io sono parte del problema di cui mi lamento, però cosa faccio? Mi oppongo? No, non avrebbe senso. Sarebbe come cercare di fermare il mondo che gira, aggrappandomi a terra. Non potrei farlo. Però, ormai, siamo in un nuovo mondo, e faccio un po' l'anziano dicendo, mi manca. Mi manca quella cosa lì. E adesso avviamo. I petauri dello zucchero. Forse è meglio col pad, sto gioco. Mi sa di sì. Ma vediamo. Ma intanto lo faccio anche io. È proprio bello. Soprattutto con Elder Ring che ogni 3x2 scopri che ti sei perso qualcosa. Esatto. A me piace moltissimo quella cosa lì. SFG. E si continua a rinnovare per sostenerla, anche se non la si riesce a seguire in live. Qui si parla di fibra, io devo usare una connessione satellitare, perché via terra non arriva niente. Non lascerò mai la mia casa in campagna. Ah, però, perché ci vuoi rimanere? Perché ti piace? Ah, che fai bene, eh. Adesso refrescio le cacche. L'unica rotore di cazzo di GeForce Now è che devo rimettere la password e lo Steam Guard ogni volta. Ma ogni volta. Ma veramente sempre. Non so perché. Cioè, il computer è sempre quello. Mi luogassi da un'altra parte, potrei capire, ma... Porca puttana. Ok, la sicurezza. Però cazzo. Ho comprato Animal Crossing per colpa tua ed eravamo allo stesso punto, era molto bellino. Eh, sì. Ecco, Animal Crossing. Animal Crossing è stato l'ultimo titolo che effettivamente non... Perché per motivi proprio di gameplay non potevi andare avanti, non potevi essere più avanti di altri. L'audio. Grazie a Ferra, eccoci in attesa, che si vedono cose interessanti. Le sole bene anche a lei, grazie mille. Non vedo l'ora che esca Harry Potter. Minchia. Vediamo stasera prima. Eh? Aspetta un attimo. Oggi ho letto un articolo che diceva che Starlink è più veloce di qualsiasi connessione di terra in Italia. Questa è una stronzata. Perché le connessioni di terra comunque danno 2,5 gigabit. Eh... Starlink arriva a una mistorame, più o meno. Un 100 mega. Forse 200 addirittura, ma... Più o meno. Deve andare bene. Per andare sopra è difficile, eh. Ok, vediamo. Ok. Oh no, ma perché col pad devo muovere il mouse così? Ah ah ah! Va a 350 e 200 quando va bene, Starlink. Che non è male, però non è meglio di qualsiasi connessione. Grazie a Calendries. Gli impegni mi impediscono di seguirla sempre più spesso, ma l'abbonamento non verrà mai tolto. Oh, grazie mille. Se tanghiamo un attimo l'audio. Perché mi basto alto? Come? Bastardi! Ah no, l'audio aspetta qua è in italiano, posso mettere. Ok. No, scusami, ma... Ma è finto. È finto l'audio maestro. Ma non è vero? Aspetta, eh, forse faccio così. Adesso li attivo i sottotitoli. Eccoli qua. Ma non ho capito come funziona. No, secondo me questo è l'audio non in-game. Proviamo così. Vediamo, facciamo new game, vediamo. Easy o medio? Medio. Che pulizia delle orecchie. Caricamento in corso. Gli animali sono nostri fratelli, né i subalterni sono proprio... né i subalterni, sono proprio altri. Imbrigliati come noi nella trama della vita e del tempo. Henry Benston. Com'è la... Il mutamento. Ahah. Perché è andato via il sottotitolo? Ma stavo leggendo! Quindi siamo nel futuro. Come va l'audio? Abbassare un altro pelo, io. No. Un 25. Andava bene? Metto 24. E vuole che si potrebbe sparare il video un po' più in su. Magari togliamo questo, ecco. Buona serata! C'è già il livello di qualità? No, per carità, non voglio toccare che dopo esplode tutto. Non so neanche che opzione sia quella lì. Allora, io vi dico... Ciao, Gabriel. Prima di partire, vorrei dirvi questa cosa. Che me l'hanno appena ricordato, tra l'altro. Guardate che tolgo il promemore dalla live. L'ho fatta! La sto facendo! Sì! Rompi, coglioni! Questo gioco è Peggi 12. Non 18. Non 18, per l'amor di Dio. Ma è Peggi 12. E noi siamo un petauro dello zucchero. Adesso io non è che vi voglio dire chissà che cosa succede. Però è Peggi 12. Come ancora esiste il Peggi? Grazie al cazzo che esiste. Cù. Mi arrampico? Come si corre? Non posso correre? Adesso è lento. Ah, è la mia mamma quella? Adesso muore, sicuro. Peggi 12. Mamma, muori. Una di queste è il petauro dello zucchero. Vedi. Vedi, vedi. Siamo il petauro. Perché non si muove tutto sculettante? Ricordo che questo gioco lo stavo aspettando veramente tanto e sono rimasto veramente male quando mi hanno detto che girava di merda. Ed è strano anche perché non è che mi sembra tutta stacca una roba. Non è Peggi 3 almeno. Ma è quella una cosa strana. Ahà. E vai. non sono utili i petauri dello zucchero all'umanità cioè al mondo proprio. Cioè, servono? Tu sei un petauro e in che modo contribuisci? perché si chiama petauro dello zucchero? Petauro non lo so dello zucchero perché mangia lo zucchero dagli alberi. Dove è andato? Mamma? Oh no, l'ho persa. È andato su di qua. Spero. Mi sono distratto. Eccola lì, vedo la coda. quando non li perdono. E si prendono a testate. Eh, purtroppo ogni tanto la rete va. Mi chiedo scusa. Ma dici che sono prede quindi vanno mangiati dai falchi. Quello è il papà, immagino. Eh, avevo detto falchi, no? Guarda la Pellegrini. No, è un cinglone questo. Ma stai volare, vola, no? Stai a vedere che il petauro è morto cadendo. No, no, il petauro è l'animale che sto utilizzando, ovviamente. Lo so che non vola plana, però... perché vedeva morire il cadere. Insomma. Era il padre quello, ok. Tra l'altro, gli scatti che stiamo vedendo sono del gioco perché non... la connessione sta andando benissimo, quindi non è colpa neanche del GeForce. Non ho proprio ottimizzato male che va male pure nei PC di NVIDIA. pensi a te. Ogni passo che stiamo per fare è sconosciuto. La nostra mamma è l'unica costante che abbiamo. È la conoscenza e la saggezza per vivere in questo mondo dobbiamo seguirla. Abbiamo molto da imparare. Non so se avete visto, ma vi ho tradotto dall'inglese, eh. cos'è una... Ma è una formica gigante, che male! I funghi vegetali più gustosi tracciano... tracciano per loro. Ma perché in inglese... Sì, mangiamo il funghi. Ma così lo mangio? Ma che bello! Ma è sparito! E che cazzo vuol dire il pazzo tu fa? Ah no, se mi piace molto, dobbiamo seguire i funghi nella vita proprio. Ma questi rossi non sono velenosi? O forse sono velenosi solo per l'uomo? Chiedo, non è meglio mangiare quelli marroni? Quelli rossi di solito sono velenosi. correggetemi se sbaglio. Allora, ma che salto? Jumping! Come mangia poi? Fa ridere. Ma poi, perché gli da un morso e poi butta? Ma finisci di mangiare, no? Per noi tantissimi... No, no, infatti chiede... Eeeh, sì! Però magari per i petauri non è... Non è? No, niente, gli da un morso al fungo e poi lo lascia lì. Mi sembra un po' maleducato. Pensa ai petauri invece che non c'è niente da mangiare. Maleducato. Per quello che è peggi 12. Di solito ciò che è blu e rosso può essere velenoso. Eh, ma i funghi di solito con le macchiette bianche poi, i rossi con le macchiette bianche dovrebbe essere proprio che mangi e muori. Salto è strano? Sì, non posso farlo più. Ma quanto è grande? No, la vedo maniera non è così grande. Ah, giusto, siamo in un mondo post-apocalittico. Giustamente. Giustamente. Quindi sono più grandi perché il petauro sarà grande come una mano. Questo è piccolino perché è dita però sarà così. Shoothead siamo a 20 manca pochissime due anni le si vuole sempre bene. Altrettanto e grazie mille. È partito oggi forse, sì? No, si pronuncia Aigo. Le le vedove nere sono grandi così. Giusto? Sono piccole le vedove nere. Sono tra i rani più piccoli. perché sei un ciccione, Gabriel e condivido la tua fame. No, ha detto vedova nera, ha detto. Non avessi detto vedova nera? Ok, però. L'ha detto lui che era vedova nera. Che paura! Schiaccia X per fare uno sprint che ha lo stesso tasto per mangiare. Cosa c'è in bocca? Mi si è incastato. Mamma, c'è un foglio. Che cos'è? Ma perché il tasto per mangiare e per correre? Che idea è stata? Mamma, c'è un'altra roba in bocca. Ti ho imprimuto per mangiare tre bacche gialle. Ti ho imprimuto. Ti ho imprimuto. I cameroni ricchi? Che dice? Non ho capito. Che fanno le bacche gialle? Curano? Vigore della pianta al massimo. Rosso salute e giallo stamina. Ok. Cioè, immaginate che ma non c'è la barra della stamina c'è quella della fame che immagino sia quella. che figata. Guarda. Che peccato che l'hanno ottimizzato col culo perché non è neanche il malaccio. Cioè, è un gioco comunque indie, non è che stanno giocando sto tripla? Ragazzi, c'è stato un drop rinnovate rinnovate attenzione. Attenzione. Qua finisce a merda. Trinciastra, nove mesi. Membrana scivolante. Finalmente si nasce proprio a San Patrizio. Grazie per la compagnia. A lei, grazie mille. E grazie a Lerondal per la sabre calata. Apro un po' di più la finestra che è effettivamente caldo. Ma è tutto oggi che c'ho caldo? C'ho la menopausa. Riccardo, dai una cospiva bacio, signore. Che è andato il mio permesso? Adesso devi togliere il tweet, Q. Premi A per saltare. Premi di nuovo A e tieni premuto per planare. Ah, la stamina del volo quella gialla. E non è a schermo, attenzione. Mi compare, mi compare solo quando volo. Vedi? E poi devo mangiare le robe gialle. Quelli viola cosa mi fanno diventare? Viola? Devo mangiare le rumache. ma sono viola poi. Uh, fico. Posso farlo anch'io? LT. Ma che bello! Tieni premuto per mangiare la preda. Caccia al salto. ma bellissimo! Segui tua madre. Sì, mamma. Aspetta, però, se mangio questi è come mangiare i funghi. Non mi ha dato stamina aggiuntiva, giusto? Eh no, vedi che il giallo non l'ha caricato. Sono solo i funghi gialli. Mi sa che gli stermos giocano Escape Simulator. qualunque cosa sia. che passione è seguire la mamma. però mi servono... Ma che bello il posto. Aha. Sta partendo il treno! Grazie Florence per i 100 bits. rinnovate belli, rinnovate per il treno e per il counter. Quello è... un'aquila. Dove è nata la mamma? Mamma? Eccola qua. Che paura. Ma se io mangio sta roba viola? Mi cago addosso. Miro Squaraus. Il Mammaus. Alex, per l'Aip Train questo e l'altro. Oh, grazie mille. E grazie a Lerondal per la sabre galata. Ah, sì, mi ricordo. Ci va già il salto senza il glide è fenormidabile. Ah, giusto che è vero che posso correre. Andiamo, mamma! Corri! È diventato Frogger. Psycho Wave! Grazie mille per la sabre galata e grazie a Ray Chan per la sub. Ringraziati i regalatori... Affogo, mamma! Mamma, affogo! Affogo, come si esce? La Lillipot mi uccide, mamma! Mamma! Riccardo, dai una costita. Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? È terribile, no, ci sono rifinito! Questa è casa mia! È stato drammatico! Cazzo! Aspetta! Non potevo fare niente! Quindi è così che vive la gente che non sa nuotare? Ma è terrificante! Imparate a nuotare, ragazzi, costa poco, fatelo, per favore, per la vostra vita. Mi raccomando. Ecco il PG-12! È un piacente, ha 42 anni e è uno dei pochi che ancora riesce a far sorridere. Oh, grazie mille. Perché sono vecchio come te! Junior Stamina Acquired. Cazzo di Junior Stamina? Christian, mi posso finalmente risubare? È sempre un piacere. Piacere mio! Ah, è tornata la mamma. Ok. Non è PG-3 Q. sono sicuro, ho guardato prima. PG-12 c'era scritto. Te lo giuro, eh. Puttana! Aspetta! Ma perché ti parlo poi? Perché ti parlo? È drammatica questa situazione! Non vedi questa scena? Ah! 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 Io sono drammatico? Fanculo. Erato del vecchio è un sub che voleva solo essere gentile. No, era un complimento. cioè per me non è non è un problema essere vecchi. Come riporto il canale? No, vabbè. Non era assolutamente una cosa negativa. Cioè io io mi sento vecchio nel senso anche rispetto alla gente della mia età mi va benissimo così. So benissimo anche che tipo di pubblico ho, che tipo di pubblico mi segue. Non sarò mai seguito da dei ragazzini giovani perché non sono giovane, sono vecchio. quindi sono vecchio. Micchia, fosse una roba che ho detto per la prima volta oggi. Stronzi. No, Gabriel, tutto bene. Sono morto due volte affogato, ti sembra che vada tutto bene. Poi Q mi rompe le palle. Ah, io sono peggi tre. Ma io posso dialogare con una così? grazie Eugi per i due mesi. Ah, mi ricordo. Cos'è sto casino che fa? Ah, sono le formiche che ti attaccano ai ragni. Gli spingo, mamma. Stavo parlando con Q, scusami. pensi a... Magari. Non è vero, ti ricordo quando le persone stavano in dad che la chat era piena di... Seguo te e non le lezioni. E infatti, come hai visto, tutta quella gente lì è stata purgata. Quindi non mi può seguire. Che succede? No, che succede? Ma posso... Può stare fermo due minuti in questo gioco senza cercare di uccidermi? Se chiedi alla mamma ti dai sicuramente che sono ottima compagnia. Ma secondo me no. Perché non corro? Comunque, chiedo scusa se sono sembrato offensivo perché gli ho dato del vecchio anzi lo... Per me era un pregio. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Sei stata presa male. Ma che? Ma vabbè, non si sa mai. Giustamente ognuno ha le sue sensibilità non vorrei mai. Ti seguo da anni non sono ancora vecchia ma quasi. Cosa vuol dire questa cosa? Grazie Eugy per i due mesi e Dimon si nasce figlio del miglior Petauro. Hai visto? Che strana run del ring stasera. Hai visto? Buongiorno. Aspetta, cos'è? Fragole? Mamma, posso mangiare le fragole qui? Viene il cagone. Ma era un bacche. Grazie a Lirondal per la sub regalata. Ringraziati di tutti i regalatori, eh? Mi raccomando. Non riesco a mangiare. Non riesco a... Si parla di un incubo mangiare, eh. E un incubo mangiare. Un incubo saltare. Un incubo nuotare. Eh, che cazzo. Ne amo mamma. Muovate. Ma stiamoci distante, no? che potrebbe uccidere il glider con un singolo jab. E questo è grosso, poi. Beh! Ma che figata! Allora, a parte lo scorpione che era tutto duro, è stato fighissimo. Attacco! Fadum! 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 Dark Souls! Guarda che è il del ring. Sì, vabbè. Forse un po' troppo l'ha schivata. Sono morto? Sembro morto. No. Facciamo finta. Ha ha! Ma preso! Ma preso! Che fa? Ah! Bastardo! Aspetta che mangio un po'. Mangio un po' e mi rimetto in sesto. Bevo delle fiasche. Devo difendere la mamma. Ok. Attacco segreto! Senza evocare, eh? Senza usare le ceneri. De grande si sa qualcosa. Sai che non ho più letto aggiornamenti a riguardo? No? No mamma. Più oltre il dito nel buco. Non ma. Nella. Uno si può distanere un attimo che si impala. Dove è andata la mamma? Ma pure? Come si ricarica l'istinto? Con il tempo? Ma che giro del cazzo ha fatto mamma? C'ha l'istinto di sto cazzo. Che senso ha avuto venire giù di qua? Scusami un attimo. Perché? Perché non siamo dati via dritti? A che è servito l'istinto? Cioè se andavo di qua? Ma vaffanculo mamma. Non ho capito. Cog. Tempo di rinnovo. Tempo di rinnovo. Si può avere una subvenzione per una nuova avventura lavorativa a Pesaro. Tantissimi auguri a lei. A tutta Pesaro. Sembra che Grounded non uscirà in tempi brevi dalle riassi. Si è iniziato ormai nel 2020. Beh cazzo. Però stiamo considerando anche che è uscito in un periodo di me. Secondo me non dovevano farlo uscire in Early Access. Questo per me è stato un errore da parte di Microsoft. Forse Obsidian voleva uscire per far vedere che stavano lavorando a qualcosa. Perché altrimenti ci sarebbe stato troppo tempo di attesa in silenzio. Fossi stato in Microsoft avrei bloccato il progetto Early Access. Perché non è così che i AAA dovrebbero uscire. Soprattutto non le esclusive. Obsidian è stato uscito per versione completa per il 2022. Noto giornalista da Jeff Grabb. Il gioco potrebbe non farci e per questo non essere rimandato a 2023. Cosa molto probabile. Credo sia voluto a Green Fog. Opla. C'è proprio l'effetto che dici tu. Per me Microsoft ha fatto proprio un errore a Stamina. Ok. A dire ok a quella cosa lì. Non è una bella presentazione buttare fuori i giochi first party in accesso anticipato. Non è una cosa positiva. mamma. Ce l'ho fatta. Sì però non sto raccogliendo più Stamina. Come la mettiamo? Cioè che mi mangio io adesso per aumentare la Stamina? Che non ci sono più i cazzilli gialli. Mi hai fatto volare ma... Ma è un uomo! Ma è una voltoio? Ma che ne sa il petauri cos'è la bambola di porcellane? Ok. Nasconditi come tua madre. Vado. La voltoio è stato allerta. Attendi qualche secondo. Devo stare fermo? Ok. No son qua. Son qua. Perché sprint? Sprintiamo mamma? Arrkokan! Andiamo mamma! È in stato di allerta! Ending his brief life. Io vi chiedo scusa per il dramma che vi sto facendo vedere tutta sera. È stato drammatico tutto. il young glider must stay as close to his mother as he can. At her age she knows all the best hiding spots and the inexperienced Joey will need all the help he can get. The vulture is a formidable opponent and won't be easily deterred. ma che attivare lo sprint aspetta eppure il gioco mi dà consigli delle palle vai mamma vai dai dai che si fa dove vado adesso mamma dove andiamo però se mi stai dietro togli qua è andata eccola qua non vedo l'avvoltoio vai mamma vai mamma l'ho lasciato scoperto vado ma mi vede attraverso i muri come i mob di elder ring mi batte il cuore mamma non immagino il piccolo cuoricino del petauro vado ma non siamo scoperti mamma mamma ah era la musica di fine aspetta che c'ho fame come va giù la stamina quando corri miseria va bene signor carota però tendo a non giocare in live i vostri giochi perché non vorrei mai dire un commento sbagliato ed essere negativo nei vostri confronti vado in magno eh oh che serata pesante posso dire pesante sto sudando for now certo certo va bene ho sbagliato tasto i petauri mangiano anche le lucertole come corre quella è la titanite quindi mi mangiano anche le lucertole adesso non ho capito sta cosa si lo faccio lo sprint ma non ho capito sta cosa ah perché così è la la targhetta però perdo l'aggro non è che perdo l'aggro per l'età dove è nata di là non era lì ma eccola là pozz che ribbio che dimenticanza bella pubblicità mi ricordato di rinnovare per vederla senza consigli per gli acquisti grazie mille non ho capito allora premo il grilletto e mi targetta la lucertola premo x e corro e però comunque per ovvi motivi la lucertola è più veloce quindi qual è il punto essere più veloce della lucertola perché prima dovevo nascondermi per acchiapparla perché prima o poi ci prendo non mi sembra non ho capito che è una moffetta sono sempre il petauro di prima che no non è stretto è tempo il muto per mirare e x per scattare fino mi dice proprio di scattarci il gioco mi dice di scattare verso la lucertola quindi non so però non ci arrivo io ce la faccio proprio semplicemente mi sfugge qualcosa grazie delle ronda e adesso mi scappa di nuovo mi sono perso non ho capito forse devo continuare a premere B c'è scritto premi B forse devo premere continuamente si è premuto ah sai che forse devo continuare a premere B x scusa così ahhh vedi non lo sto raggiungendo uguale però cazzo ahhh ok 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 mica è un incubo ah e lo porto alla mamma mamma e sorella ho capito dove sono non avevo capito che devo premere ripetutamente anche se il simbolo sembra era chiaro mamma che è successo non lo so c'è qualcosa che mi sfugge una dietro l'altra proprio segui tua madre e dove sarà mica andata mangio poi lo stesso tasto per mangiare lo stesso tasto per correre eh ma non potremmo farmi fare qualcosa anche con la B ah no l'attacco c'è la B ok i grilletti no non li usiamo mi dice di andare di qua ah eccola lì la mamma ma c'è arrivata lì un sacco un sacco di domande nessuna risposta comunque la vita del petauro è veramente strana se posso dire vi ricordo che alle 10 di stasera ovvero fra un'ora e 20 seguiremo lo set of play per vedere questo nuovo gioco di Howard's Legacies ma posso uccidere anche le farfalle per qualche motivo si mangia anche le farfalle quella è una balena non sarà il gioco di Perry Hotter perché non c'è Perry Totter forse c'è Duke Perry però si però ma ma cos'è qualcosa di quella roba da platforming Dark Nessa buonasera gattone la si segue sempre volentieri di giorno e di notte su che sito mi segui grazie mille e dovreste mangiare sicuramente una primizia del www ma noi siamo petauri quindi è un acrobata nato il petauro eh si però che puttana mamma 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 acrobata nato solo che nasci cresci e questo succede poi leggi con l'acqua siccome io lo sono al fuoco aspetta che questi fa male eh volare per forza non peghi i dodici mi fa morire in maniere veramente drammatiche comunque la mamma sicuramente muore per questo che il tutorial ci sta spiegando il regno ma io non posso mangiare oooola e questa mi dà stamina perfetto quindi tutta la roba gialla mi dà stamina funziona così giallo uguale stamina qualunque cosa sia che sia un piatto di pasta in bianco un fiore ho sentito una mucca andiamo mamma e allora voliamo bene però ho capito che ah si mi ricordo eh si abbiamo visto aspettavo non ha mai visto una balena non c'era motivo per cui avesse dovuto vederla ah c'è scritto ah lo tsunami ma quindi secondo voi è un gioco che ci ha risvolto ecologico ecologico poi oh no la voltoio quello sulla spagliera di panariello ai rovi vi ricordo di rinnovare 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 perché il counter è sceso e se torniamo alle si si se torniamo alle 3400 una nuova emote vi attende che potete vedere sul twitter con i picazzi con i picazzi nocturnal he'll have to use every instinct available to him to survive this strange and hostile landscape bom andiamo mamma dai chine dai chine andiamo petauro sarebbe la puzzola no il petauro è il petauro è un animale abbiamo visto una puzzola volare caputana che morte nei rovi poi non è che è morto no no è proprio finito in mezzo ai rovi ed è morto lì drake per non farmi spoiler su eldering che non la vedo da un po' di mattina ma mi ricordo la sua compagnia almeno questa sera perdonami tantissimo ma com'è possibile che ti perdo perché sei una costante del mio cuore e quindi è come se tu fossi già già subbato comunque colpa di Q sotto una palla di pietra vedrai vedrai il video che ho montato dell'altra live di Karim perché effettivamente il video che abbiamo fatto cioè che la sua live è il mio video della cosa egizia anche lì c'erano delle palle di pietra che mi cascavano in testa tu senti sempre Q comunque andate sul twitter di Q che l'ha mostrata lì l'emote era voluto il doppio senso stavolta arrivo mamma è difficilissimo è veramente difficile con questo magari si va meglio bravi tutti potrei farlo fare anche prima maimona è molto bello il gioco che abbiamo fatto ieri Gabriel assolutamente sì da riproporre però in realtà io riproporrei anche Foreignard quello horror devo proporre una serata a lui e lino e a Moro se ha voglia e buttarci di nuovo lì dentro perché mi sono divertito sia sia con con quello indiano sì vabbè con quello egiziano che con quello di ieri non ci credo ma che filata miro la parte 2 è uscita oggi Green facciamo così che riesce meglio questi pesci li vedo pericolosi mamma occio ricordo una canzone delle bronze coerte che diceva occio tento che c'è mome popà non se la riesco a trovare scusate il ragno mamma i ragni salute della madre no la missione di scorta come la missione di scorta mamma che parla che se premi troppe volte continuano ad attaccare veramente il derring mamma stai attento ce n'è uno in faccia sì però fai qualcosa eh anche tu ah no è l'orecchio quello scusa è tuo eh ragni merda ragni merda heavy damage activate proteggi il nido eh lorda per frodo forca troia non posso neanche mangiarmeli eh il nido è infestato segui tua madre come ma non è vero che dici mamma fatto di tutto per salvarti eh mamma dov'è data oh no ah è viva per fortuna no mamma magari sono stanca no dai no dai il momento bambi due volte perché è morto prima il papà e poi la mamma e se ne va ok 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 eh e quindi c'è il viaggio rapido scusami ma come che mappa 3D ma c'era bisogno di questa roba ma che quanto è grande ma sarà tutto esplorabile secondo voi eh la madonna è tanto eh allora qua sicuramente sì però secondo me non è tutto esplorabile ma invece sì guarda sono diversi biomi anche forse qui non sarà esplorabile qui in alto tipo dov'è che devo andare scusa mi aveva detto di qua quindi queste sono le gallerie sotterranee quella è la mappa del DLC ma dove è andato? e perché è andato via? dove farfalle rosa? ah per curarle per curare la mamma aspettate un attimo è che volevo trovare se trovavo la canzone per farvela sentire album completo donna che cosa sto trovando vabbè ve lo farò sentire domani mattina in live magari che le ripesco meglio grazie a McFlavis che non mi pare di aver letto per i suoi due mesi e rinnovate per questa cattura da maestro le deve portare la mamma ah e dove le mette che vuol dire cos'è questa cosa qua del metallo il metallo non ci ho preso non ci ho preso figura di merda preso torna nel cunicolo ok 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 di qua che paura che cazzo è stato grazie a McFlavis per i suoi undici mesi ah si mi ricordo quindi se siamo avvelenati dobbiamo mangiare la farfalla viola grazie McFlavis per i undici mesi cazzo ma sapete che è un gran peccato che l'abbiano fatto col culo sto gioco perché gira male si vede che gira male anche se l'hardware non è il mio non è bellissimo da vedere perché c'è chiaramente dei problemi però non è male come gioco ma guardate che peccato forse un annetto in più di sviluppo non li avrebbe fatto male si è avvelenati la farfalla viola dove va salta su salta su non li a molti giochi si avrebbe un annetto in più di sviluppo di questi tempi si no ok aspetta è però dondola è che poi mi gira la telecamera senza motivo ok adesso funziona perfetto il covid ha dato molto fastidio agli sviluppi porca vacca ahah ho sbagliato mamma 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 eh tipo dove è andata la mamma di là mamma mamma da come fu stato il gameplay nella narrazione mi ricorda Eternal Asylender è vero tuttavia nonostante Eternal Asylender fosse stato veramente un bel gioco da giocare diventava una rottura di coglioni perché diventava ripetitivo dopo poco qui quantomeno non è così per ora adesso io non so quanto duri sto gioco però non mi sta non mi sta per nulla dispiacendo devo dirvi certo si vede che stiamo giocando a un indie figa non stiamo giocando a un triple A neanche un doppia A ben distante da avere tante A più di una più di mezza però oh ma sapete che è interessante ti racconto questa storia del petauro l'ambiente è efficace per quanto non sia una grafica così della madonna cioè mi aspettavo una merda invece piacevolmente sorpreso si però dovrei mangiare qualcosa ecco i funghi si aspetta un secondo vecchio non pensavo fossi indie e beh sì guardalo anche come si muove il petauro come agisce il fatto che si mangi un fungo nel senso che gli da un morso e basta quanto dura Gabriel mezz'ora e allora non è nel senso hai stamina ma era un bobcat quello come si chiamano in italiano i bobcat giacomo cat stronzate a parte come si chiamano 5 ore story 20 completionist beh la mappa probabilmente nasconde varie cose ci sta lince rossa la lince è vero che c'è la lince oddio la lince che cazzo mi ha tirato fuori adesso avevo un libretto di poca ontas un libretto quello per bambini naturalmente sai con le con le pagine in legno mi pare non in legno in cartoncino e aveva i suoni e c'era la lince c'era la lince da premivi e faceva il verso della lince e la cosa bella è che io non avevo visto poca ontas no non di legno era cartoncino va bene quindi andiamo dove va perché va a destra ma santi Dio ma io mi posso fidare di questa donna dove è andata ok vado è niente è molto sifetosa quella volta no non faceva non diceva la mucca fa mu però avevo anche quello che tiravi la leva girava e ti faceva verso dell'animale era una specie di roulette russa della vecchia fattoria la gola ho sete ma ho finito l'acqua adesso lo voglio ritrovare quel libricino di poca ontas la finita la mamma sarà con la lince mamma sarà di là eccola lì looted looted che figata mi fa vedere anche il mondo post apocalittico quello che hanno lasciato gli umani quindi il fatto che ci sia scritto looted significa che degli umani sono passati e hanno raccolto gli oggetti che c'erano lì dentro e hanno segnato l'ulted ma è bellissimo e non per quelli che cercavano perché sono morti però wow posso andare? non lo so la mamma è rimasta lì mamma? non so che dirti che facciamo? mamma sei una stronza però oh no di nuovo ok aspettiamo che passi come il covid e vedi che dei parte poi da sola prende iniziative quindi devo seguire la mamma la madre ha l'idea e qua siamo d'accordo qui devo partire quando parte lei ecco dove sbagliavo vai mamma e lì già porca troia arrivo che cos'è questo animale era molto bello buonasera gatto in uno di questi giorni difficili mi ha fatto accompagnare in pasta io ti abbraccio fortissimo e grazie sono contento di tenervi in compagnia anche quando siete tristi sono più felice di tenervi in compagnia quando siete felici però anche quando siete tristi mi fa piacere se vi tiro su ma aspetta ma con zero preavviso non è che mi fa un 321 la mamma parte oh coglione andiamo and scavengers have come to dominate the island but this imbalance cannot last forever eventually food will run out for the scavengers as well the future of life on earth depends on where the small mammals like the sugar glider can find a way to rebound cosa chi è grazie mi hanno portato dell'acqua posso mettere in pausa un attimo sì perché stava già ripartendo la stronza mi ha fatto una foto cosa è successo è la borraccia di twitch che purtroppo c'è questo retrogusto di plastica incredibile però la borraccia di partner di twitch grazie alla mia signora diventa partner che vuoi e poi berrai anche tu la plastica vado birretta? no non penso dov'è andata la mamma? sull'albero? ah vabbè mamma dillo cazzo eh accendi magari una luce uno capisce ma non era meglio stare sotto terra a riposare infatti guarda cosa succede guarda cosa succede alla mamma a tutti che versi sto sentendo no mi salvo solo io anche la sorella muore no dai vabbè ho capito ma viene a casa mia e picchiami sviluppatore ma scusami eh ho capito però poverino ebbè ah non sono morte già detto che le salva poi non so non so se ce la fa e secondo me sono già belle che andate però posso mangiare questo semaforo? che succede? c'è rotto non so ha avuto un attimo di mancamento ah per qualche motivo l'attacco adesso c'ha del delay sono l'attacco però la lince rossa si chiama Bobcat perché ha la caratteristica barra nera sulle zampe anteriori e la coda tozza Bobbed con la punta nera da cui deriva il suo nome non ci avrei dormito stanotte se non avessi capito l'etimologia da parole in inglese mi fa molto piacere Cold io dormivo tranquillamente però se adesso ti senti meglio siamo qui per te vuoi condividere altro? sulle linci però perché hanno le orecchie a punta? aspettiamo domani mattina ma sono morte sicuro? determinazione di riunire con la sua famiglia vabbè ma verso dove poi? di qua si guarda ma cosa questi funghi qua? li mangio allora posso? no sono quelli rossi dice simbiosi funghi volare si però ho finito la roba gialla da mangiare ah no ok una barra gialla comunque me la ricarica gratis ho capito e questo ne posso mangiare invece motivo per cui non riesco a vedere i film con gli animali beh se c'è un cane a meno che non sia Beethoven solitamente non è che faccia proprio una bella fine il cane junior acrobatics acquired ok perché c'era un uovo rotto? non vedo che paura non sono un proncione volante al massimo un coso uno scogliattolo volante si chiama comunque Petauro bello ma che figata no mi devo buttare lì tra i tronchi ma questa è follia guarda vado ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta non voglio sentire un fiato ercatroia però c'ero è difficile perché a una certa il volo lo prendi in una maniera proprio strana cioè non lo riesci a controllare bene all'inizio si poi dopo tocchi di un pelo che è successo? oh mamma mi manca flight simulator mi serve la fibra per giocarci fatto è pesante allora è pesante di suo grazie Cissifella per i 43 mesi di tier 2 è pesante di suo ma soprattutto utilizza tanta banda per giocare online mi manca tanto flight simulator tanto è uscito il il coso la manetta della turtle beach che è bellissima grazie a Gasparri per gli 11 mesi per gli 11 mesi ve la linko è veramente una meraviglia costa un boato e finché non finché non ho di nuovo la fibra non ci penso neanche ad acquistarla però ve la linko perché se siete fan di flight simulator quello è sicuramente il modo più più pratico anche di giocarci perché con un unico pezzo lo attacchi la scrivania e vai un po' come il volante a differenza della mia che è bellissima però sono due pezzi qua invece è un unico pezzo tutto quanto con che si sincronizza con i pulsanti lo schermetto tu vedi sullo schermetto tutte le info dell'aereo è tanta è tanta 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 roba eh sì Petauro sei tu buonasera chiami il signor field e la fai mandare in realtà già il buon field mi ha mandato altre manette di flight simulator infatti ne ho un botto però quella lì è la cosa che proprio è più per la gameplay del mondo 300 e passa euro sì però li vale esattamente come i volanti buoni valgono soldi ecco sono soldi che non spenderei per un volante ma per la manetta di flight simulator sì è molto bella sì il fatto che abbia lo schermetto aspetta che sto morendo di fame i touch screen e tutti i tasti programmabili e compatibili cioè perché è stata proprio creata per flight simulator il fatto che sia stata creata così in bundle pensando all'utente che gioca a flight simulator per me è proprio la roba che merita è la cosa che mi ha spinto di più e mi spingerà di più per adesso sicuramente non è che vado distante posso mangiarmi questa stronzata qua sì ti è ti rabalto posso mangiarla adesso l'insetto mangio tutto non sono riuscito a prenderci figura in merda ma perché fa così beh vabbè vabbè è morto no? sì fra le simulature c'è anche su geforce now sai che non lo so non ho guardato non ho guardato non credo però non ho guardato no ma sì ma ha fuoco in due centimetri come nella vita vera effettivamente state attenti alle pozzanghere potrebbero essere l'ultima cosa che vedete difficilissimo uccidere gli insetti hakuna matata sembra quasi poesia hakuna matata questo è un ragno tutta frenesia sì c'è su xcloud ma è un corallo ah no reale è scarlato niente non è venenoso quindi non è corallo e basta con ste formiche nel merda e noi combatteremo per proseguire caro narratore attacco segreto ah non mi ha ucciso gli faccio il matrix ah lo devo schivare finchè non si stordisce va bene va bene ma che è successo non l'ho fatto io non l'ho fatto io questo forse perché sono stato troppo vicino vai arricca troia mega morso aha tiè stordisciti attacco segreto patunfete ah no ma non avevo capito che dovevo rischivare scusami è elder ring per davvero questo gioco solo che c'è il petauro mangio e poi mangerò il serpente allora allora c'è più coerente questa boss fight di quella di elder ring che almeno c'ha una stamina il serpente mamma mia e niente mangio non posso mangiarmi il serpente no gli fa cacare si vede fa lo schizzinoso fa mangio il serpente ha rollato hai visto come ha rollato sono in fast roll ma arriva pure i ragni scatta per fuggire dall'inondazione come l'inondazione devo andare di là immagino ma si può stare tranquilli sei seco grazie allo squartato per i suoi tre mesi via 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 tranquilli tranquilli ragazzi siamo in una botta li farò mangio mi farò mangiare come sale l'acqua veloce chris sedici mesi grazie mille grazie a the night dreamers company passo al volo solo per rinnovare ma non perdo le speranze che un giorno tornerò a seguirti tu aspettami sono qui non mi muovo finchè non muoio promesso si però secondo voi ancora viva la nostra famiglia in questa situazione qua cioè la portate via a un avvoltoio perché per me sono morte challenge faccio la sub finchè non muori va bene va bene vediamo cosa succede però mi piacerebbe andare in pensione quindi tu stai dicendo che io la pensione non ci arrivo cioè tu mi garantisci che io muoio prima della pensione cioè ti ringrazio in realtà e sono contento è la partita IVA gatto quindi sì la portata di Isengard cosa succede quella ranocchia lì dove devo andare di qua quella cos'è un aereo si torna sempre a flight simulator vedi non avevo visto i rovi perché pensi di andare in pensione ragione penso che mi piacerebbe è hype però guarda esattamente come per Elder Ring non voglio non mi aspetto grandi cose cioè finché non vedo qualcosa di concreto spero stasera di vedere qualcosa di concreto non non mi voglio sbilanciare anche perché ricordiamoci che storicamente i giochi su licenza a parte alcune eccezionali eccezioni come Spider-Man fanno cagare il cazzo cioè oltre a Spider-Man non mi vengono altri titoli su licenza buoni grazie a Ronco per i 21 mesi e lui vuole che io vada di là andremo di là Batman no si pronuncia Aigo si non lo definirei un'eccellenza però ha definito un effettivamente Batman ha definito un genere di gameplay se vogliamo più direi neanche male lo ha ripetuto per sette giochi questa roba che la mangio io non posso bello di un due ma una mantide ahia che male che mi ha fatto volevo qualcosa un po' più recente Shadow Mordor è vero l'ombra di Mordor non era niente male dipende potete ritrovare chi sono e che cosa hanno fatto per cortesia dovevo andare di là ma ce la faccio ma forse sono solo alberello no non posso è un alberello di merda che faccio ci provo però quella è la casa dei ragni mi siamo un po' un'idea del cazzo passarci magari di qua eh di qua è giusto Mad Max non era male è molto bello Mad Max è vero però era bello per essere un gioco su licenza tornando lì c'è un bel gioco però che ti dimentichi anche abbastanza la svelta purtroppo Leggo Manuel Avranci Studio sì però non mi ha detto che cosa ha fatto Sjortuna sei il mio spirito guida però mi spiace grazie hanno fatto Disney Infinity Cars e Chicken Little ecco non è che abbiano esattamente un curriculum su cui fare affidamento ecco eh vabbè fate che mazzo sti ragni a cazzotti perché i petauri sono dei combattenti non usano armi da fuoco Cars gioco stupendo era un gioco carino di macchine carino per essere di Cars anche Warhammer tot al volo è su licenza sì però è un tipo di licenza completamente differente le cose tratte da film cioè io vi ricordo il gioco di Iron Man che era terribile il gioco di Superman poi cos'altro è che era uscito c'è stato un periodo in cui uscivano solo a parte Chronicles of Riddick che è il primo poi il secondo già lì insomma uscivano solo giochi tratti da film e porca vacca erano peggio dell'altro i Matrix che ha giocato tra l'altro anche recentemente Karim no non ha giocato quello però c'era Enter the Matrix che santi Dio il gioco di Jumanji non l'ho visto cioè non l'ho giocato però l'ho visto sì insomma i Guardi della Galassia sì però quello lì è figlio della roba Marvel e lo hanno distaccato hanno fatto lo devo giocare tra l'altro c'è anche su Xbox vero nel Game Pass non solo su PC perché io quello me lo voglio giocare con le musiche con la licenza magari mi metto la sera con la mia signora per quella mezz'ora che abbiamo la sera prima di dormire poi facciamo aaaaaa anche perché la colonna sonora è tanta roba dei Guardiani dell'Intergalattica perché sono grossi questi ragni mutati eh eh vedo aaaaaa hai capito che figata il motivo per cui i ragni sono diventati grandi è perché le specie che cacciavano i ragni si sono estinte e quindi sono diventati loro i predatori e sono diventati più grossi ma che bella come teoria eh ho mollato l'ama perché pensavo andassi in automatico Peppe buonasera gattone stasera esce alle 22 anteprima o Corso Lega sì no non è che esce in anteprima il gioco esce vediamo l'anteprima la guardiamo assieme grazie Nico per i sette mesi storicamente i giochi su licenza erano terribili più che altro perché i soldi andavano in licenza e non al gioco negli ultimi anni però il trend è andato migliorando è andato migliorando perché ci mette i soldi direttamente come nel caso di Spider-Man chi ha la licenza ed è una bella differenza se chi deve sviluppare non deve spendere soldi per avere la licenza a parte coso Square Enix con Avengers che è cacca grazie Sharon per i cinque mesi anche qui io non mi ha più detto di correre mi sono fermato scusate quello dei Simpsons era molto bello tutti e due sia Hit & Run che i Simpsons in videogioco l'unico difetto di Simpsons in videogioco è che è lo stesso difetto di Assassin's Creed 1 è a capitoli qui pubblica Warner esatto Stefano quindi la come si dice la pecunia per la licenza non c'è da parte di di Warner perché già possiedono la licenza del brand di Harry Potter però non hanno scelto degli sviluppatori rinomati e non è non lo so forse perché hanno voluto risparmiare ancora di più eh non è una grandissima mossa se posso dire square non aveva partato il lavoro dell'Avengers alla Eidos allora che non l'ha fatto direttamente square l'ha solo prodotto effettivamente non mi ricordo chi l'ha sviluppato gli Avengers e quindi lo faccio così faccio la stamina che mi finisce sono veloce come veloce il vento alzo le brazzi arrivo mamma ma secondo voi la troviamo veramente è morta sono morte secondo me stiamo facendo tutto questo viaggio della speranza è morto se questo gioco non sarà rivoluzionario l'avanguardia sarà un flop pazzesco ma no non sono d'accordo essere rivoluzionario che vuol dire perché dovrebbe essere rivoluzionario basta che sia un bel gioco rivoluzionario non serve cioè che gioco è che è uscito che è rivoluzionario adesso mi tiriamo fuori Elder Ring rivoluzionario si vede da anni assolutamente cioè ci sono delle meccaniche fighe nuove ma rivoluzionario no rivoluzionario rivoluzionario che è lo stesso discorso che la gente sta facendo anche con Mario Kart che tra l'altro mi hanno mandato la coppa a quelli di Nintendo ringrazio tantissimo farò anche un rial eccoci qua la gente si è lamentata perché hanno fatto 48 circuiti di giochi vecchi cioè quindi rifatti tutto quanto per il gioco nuovo e tutti ma scusa non potevano fare un gioco nuovo ma perché fare un gioco nuovo come Mario Kart che funziona c'è piace ma che cazzo che poi che cazzo si devono inventare di Mario che lì si devono cambiare gameplay e fare qualcosa di nuovo c'è il gioco bene ma che ci facciano dire sia la manetta cioè boh secondo me non c'è proprio il bisogno di un nuovo Mario Kart oggigiorno lo aggiorneranno esattamente come aggiornano eh coso Smash con nuovi nuovi combattenti di volta in volta poi oh nel momento in cui ci sarà il cambio tecnologico magari faranno una miglioria grafica però ora come ora non senti il bisogno di un nuovo Mario Kart come ti trovi con Ring Fit Adventure nel lungo periodo è devastante guarda che bello anche l'ambiente con la col cervo lì che cammina graficamente è buono sì cartunesco funziona non mettono piste nuove e ci si lamenta non le mettono e ci si lamenta sotto sotto noi gamer non siamo mai contenti infatti ma è per quello che il concetto di rivoluzionario esattamente come per gli smartphone è un periodo che è così c'è questa limitazione tecnologica e dove vai la rivoluzione vera doveva esserci con l'hard drive di playstation 5 però se nemmeno sony lo sta sfruttando e dove cazzo andiamo che quanto pare pure rachet poteva andare tranquillamente su play 4 e allora è tutto inutile oh no scatto ah pochino ho perso qualche pacchettino aiuta a rifiutare a rimanere in forma non lo so però mi stanca parecchio quindi sì ssd di play 5 è arrivato prima su pc che su play 5 vabbè ci sta che le console siano più indietro rispetto al pc ci mancherebbe costano anche un terzo elder ring fit quello sì sarebbe devastante che tuffo di merda che acquitrino sto mando l'ssd su elder ring non viene sfruttato l'ssd su elder ring cambiamento tecnologico che ci ha promesso sony non è ancora stato utilizzato con l'ssd perché se mi venite a dire mi carica più veloce allora siete un po' stronzi grazie al cazzo che carica più veloce però non è un cambio che ti cambia il gioco quello dove devo andare qua sì l'ssd è stato pubblicizzato da sony per cambiare il gameplay per cambiare il gioco il modo di giocare non per per i caricamenti più rapidi il futuro promesso da sony è un gameplay più rapido e migliore grazie all'ssd perché la console non deve perdere tempo a caricare mentre giri la visuale cioè hanno fatto vedere una roba con spider mentre l'altro quella è una monorutaia con spider mentre l'altro che ok perfetto i nemici potevano essere di più potevi girare la telecamera in una certa maniera potevi avere una maggiore visione del mondo insomma l'ssd cambia il gameplay il fatto che carichi più veloci è un grandissimo sticazzi e Aurelius non lo so io sto giocando a un gioco sui petauri il fatto che tu possa avere ambienti grandi è dovuto all'ssd un harddisk normale non ci sarebbe stato dietro non è vero Gabriel tutti i giochi che stanno uscendo adesso Elder Ring God of War coso come si chiama Horizon tutta roba che è uscita anche su play 4 quindi e tutta quella roba lì è uscita anche su play 4 ora come ora l'ssd di playstation non è minimamente sfruttato se non per i caricamenti più rapidi fanno così perché non ci sono le play 5 o sbaglio ancora questa qui è io non so chi ha messo in giro sta stronzata no non è vero lo sviluppo di un gioco non si fa in 5 giorni non si fa in un anno si fa in diversi anni di sviluppo i giochi che escono multipiatta sono stati decisi hanno deciso di far uscire multipiatta da anni non è che hanno detto ah non abbiamo venduto abbastanza console vabbè dai allora facciamo uscire il gioco anche su play 4 perché non funziona così 1 2 mettiamo che questa teoria fosse vera immagina che bello Sony che decide da un giorno all'altro abbiamo venduto un sacco di play 5 ma non l'hanno comprata tutte ci sono più play 4 sai che c'è chi ha comprato la play 5 è un figlio di puttana vediamo anche che ha solamente la play 4 non ha comprato la play 5 non sta in piedi ci sarà un problema inverso non stanno sviluppando giochi su next gen perché la base installata è troppa rispetto al previsto questo è verissimo questo era ovvio fin dall'inizio infatti un paio d'anni bellissimo un paio d'anni così ci li aspettavamo un po' tutti a parte chi ha comprato play 5 perché Sony ha sempre detto crediamo nelle generazioni ma questa è un'altra questione nooo eh dai tutto fate che rimangio poi aiutami di stallo e anche per via del covid soprattutto magari è un giochi che quando sono iniziati a sviluppare erano previsti per uscire prima le nuove agenti hanno semplicemente mentito spudoratamente vi invito a recuperare il cortocircuito di tre o quattro settimane fa perché hanno fatto una bella analisi su quello che è successo da Sony perché sono successi diversi casini proprio per via anche di questo discorso delle generazioni è partita anche una class action per quanto riguarda Horizon Zero Dawn perché inizialmente doveva essere doveva essere solo per play 5 poi dopo hanno tirato fuori sta storia che usciva anche su play 4 come gli altri giochi però non l'aveva detto niente nessuno perché loro dicevano esce solo per play 5 e va bene poi se ne sono usciti col fatto che devi pagare questo dazio che si è inventato a Sony devi pagare 10 euro per fare il cambio generazionale che è una cosa completamente fuori di testa soprattutto per i first party al che Sony il buon Jim Ryan ha detto vabbè raga allora per Horizon questi 10 euro ve li abbono per gli altri no vinculate me li date però per Horizon se comprate la versione play 4 voi pagate 10 euro in meno e potete giocarlo su play 5 la versione play 5 non la play 4 in elettrocompatibilità benissimo tutti contenti di questa mezza vittoria e cosa avviene fuori se tu compri la versione play 4 di Horizon paghi 10 euro in meno rispetto alla versione play 5 il gioco è lo stesso semplicemente uno è fatto per play 4 uno è fatto per play 5 se tu compri la versione play 4 hai diritto ad avere la versione play 5 quindi tu paghi 10 euro in meno e hai la versione play 4 per la tua play 4 passi a play 5 e giochi la versione play 5 chiaro? e qui arriva la burla perché fondamentalmente tu compri su play 4 su play 5 il gioco è lo stesso perché ti danno sia la versione play 4 che la versione play 5 e ci puoi giocare dove vuoi con il tuo account Sony e playstation ma se tu cerchi di comprare Horizon su play 5 non c'è la versione play 4 quindi sei costretto a pagare 10 euro in più grazie a volare per i 19 mesi e come vado là ma così ma sì ma è così era giusto credo sia la vita la barra rossa che compare vicino al petauro non lo puoi usare dentro compatibilità? no 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 non hai capito se tu lo compri ovunque tu lo compri ti danno entrambe le versioni play 4 e play 5 se lo compri su play 4 spendi 10 euro in meno se lo compri su play 5 spendi 10 euro in più e il gioco è lo stesso perché non dovrei comprare il gioco per play 4? perché da play 5 la play lo store non te lo fa vedere ed è partita la class action perché da play 4 tu puoi comprarlo e poi ci giochi su play 5 grazie a Meretz per i 5 mesi dal sito puoi comprarlo e ci giochi su play 5 dall'applicazione per il telefono lo compri e ci giochi su play 5 ma su play 5 puoi comprare solo la versione che costa di più non è giustissima questa cosa perché mi stai rubando 10 euro se mi stai facendo pagare 10 euro di più perché sì perché è truffa e fate partita la class action soprattutto perché non è l'utente attento come me o voi che io tra l'altro sta cosa non lo sapevo quindi pensate anche un utente comunque avanzato informato come me che me ne frega il giusto per carità io l'ho comprato su play 5 non sapendo questa cosa io ho pagato 10 euro in più avrei potuto pagare 10 euro in meno se hai la versione di play 5 perché dovrebbero darti la versione di play 4 e cosa c'entra perché devo pagare 10 euro in più se hai la play 5 se hai la versione se tu vai sul sito e compri la versione di play 4 ti danno entrambe a 10 euro in meno perché dovrei pagare 10 euro di più questo è il punto perché devo perché devo pagare di più se posso non farlo tanto perché l'hanno detto loro che posso non farlo non è che me lo sto cercando di truffarli o di fare il furbetto grazie a dead snake per i due mesi sono due è come avere due supermercati uno di fianco all'altro stesso prodotto da una parte costa 10 euro dall'altra 20 però tu puoi entrare solo nel negozio dove costa 20 si ma lo giochi a 60 frame che cazzo dici momo ma che cosa hai capito allora o mi sto spiegando male o c'è qualche tipo di problema nell'apprendimento perché non è possibile comprando una playstation app lo paghi 10 euro in meno dead snake grazie a cavel per i tre mesi questo succedeva tre settimane fa adesso non so se abbiano sistemato questa truffa grazie all'amori per i 14 mesi con la versione play 4 hai gratuitamente la versione play 5 esatto e anche se compri la versione play 5 lo so perché me l'ha data hai la versione play 4 quindi il prodotto che compri è lo stesso dallo store play 4 costa 10 euro in meno dallo store play 5 costa 10 euro in più senza motivo stanno andando avanti da anni dicendo che tipo A non sono sostenibili gatto ma cosa dovrebbero fare a questo punto Torian farlo pagare la stessa cifra sia da una parte che dall'altra cioè per me pagare il dazio di 10 euro è una stronzata soprattutto durante il cambio di generazione fossero passati 3-4 anni magari lo posso anche capire però il gioco lo stai facendo uscire da entrambe le parti soprattutto perché è una base installata e tra l'altro lo stai facendo uscire da entrambe le parti perché tu stai facendo il furbo quando il gioco doveva uscire solo su play 5 visto che avete fatto una campagna marketing per anni che diceva noi crediamo nelle generazioni se non compri play 5 tu i nostri giochi non li giochi quindi perdonami ma è un problema tuo che hai cambiato idea non hai capito tu lo prendi per il 4 e ti da entrambe le versioni 30 e 60 frame se lo prendi per il 5 ti da entrambe le versioni ma lo paghi dicevano in più si esatto ah no non stavi dicendo a me stupi scusami eh però momo è mezz'ora che lo sto spiegando cazzo eh rinnovate per il treno la sub la pagate sempre uguale tranquilli ma dove cazzo sto andando io perché sto tornando indietro ho sbagliato sono un deficiente aspetta eh mi sono confuso scusatemi ok e dove devo andare allora eh no mi punta di qua ma io non sto mica capendo grazie stufi per le 5 sub ma la sub è esclusiva per i 5 sì ma la pagate dicevano in più lì attenzione allora ok devo andare di là ok ho capito ho capito dove mi sono incastrato perfetto mi ero fermato a mangiare mi sono girato perché si gira la telecamera scusatemi allora che odio quando i giochi fanno così che mi frega a me dello scorpione ma devo andare di qua andiamo di qua che c'è grazie a Denton per i 31 mesi eh non è vero ma ok avrei dovuto volare vero dove sto andare adesso ma perché devo avere una vita drammatica in quanto petauro ma poi sto nuotando perché muoio 80 euro è il prezzo di un gioco per i 5 al lancio perché dovrebbe costare al lancio 80 euro anche su all gen esatto non lo vuoi far costare 80 euro su all gen lasci comunque un modo all'utenza di rifarsi in un qualche modo non ha senso fare pagare 70 euro da una parte e 80 euro dall'altra fai 70 euro dappertutto hai voluto fare la cross gen va bene ti ho comprato 500 euro di console me li sconti sti 10 euro ti ho dato fiducia dove fiducia non la meritavi che cazzo eccoci qua aspetta mi ha detto il boost forse devo saltare e voler sì sì credo dovevo andare lì immagino ma non ce l'ho fatta eh no pula sì dovevo andare lì dentro c'erano le lucine loro guadagno sui giochi gatto 15 euro si sentono sì sti cazzi ripeto perché hanno fatto loro il discorso o compri play 5 o non giochi loro non l'ho fatto io non sono andato io nei negozi a dire alla gente comprate play 5 perché altrimenti non giocate ok grazie a tutti in 18 mesi supporto meritato grazie mille devi dare un tempo di ammortamento alle persone per passare da una parte all'altra e allora con tutto il bene che vi voglio aspettate che dobbiamo anche chiudere e partire con quel coso intanto bello comunque questo gioco cazzo mi è piaciuto molto chiudo così molto bello non sono io che decido come deve andare il mercato tutti gli altri al di là di microsoft al di là di microsoft però anche tutti gli altri a parte sony compri la versione all gen hai gratuitamente la versione next gen sarà così per sempre probabilmente no però sanno benissimo che la base installata è importante ma che la gente sta cercando di accappararsi la next gen quindi se lo capiscono le terze parti ma non chi vende l'hardware vuol dire che c'è un problema grave di fondo ok dove la vedo la live sono io questo mi sono riaperto da playstation playstation nit ok in live no però è ricommentata su playstation nit è ricommentata pensa playstation ok facciamo così facciamo così e metto special events state of play su harry poter eccoci qui e ci metto special events ah si mi ricordo eggy buonasera ragazzo sono sei mesi faccio un salto per rinnovare e via grazie mille aspetta che disattivo la chat così mi dovrebbe scattare meno una ventina di minuti dovrebbe durare parte fra sette parte quindi ripeto non vedo perché una ubisoft mi possa fare questo cambio gratuitamente una una microsoft mi fa questo cambio gratuitamente anche electronic arts se non sbaglio ha fatto un cambio gratuito per la next gen di alcuni titoli cioè tu sei sony e non te lo puoi permettere mi sembra un po' una stronzata giusto per perché si sony purtroppo da quando è andato su jim ryan ma soprattutto da quando hanno iniziato a parlare di play 5 si è completamente persa io prego che sony si rimetta un attimo in carreggiata perché stanno facendo merda da quando hanno iniziato a parlare di playstation 5 merda grazie a rocco per i 52 mesi e elison per i 6 vabbè rockstar cosa c'entra rockstar sta rifacendo un gioco vecchio io sto parlando dei giochi che sono usciti adesso cross gen ubisoft riempie sui giochi di microtransazioni sony no cosa c'entra perché ti costringe a comprarli però le microtransazioni john buonasera buoni due anni e mezzo a noi che sono come tre anni meno di sei o come due anni e sei mesi insomma auguri grazie mille io non so sony veramente sta facendo delle scelte random ti ricordo gta 5 full price per tre generazioni ragazzi io non momo porca di una puttana ma mi ascolti quando parlo o scrivi in chat così alla cieca i giochi che stanno uscendo cross gen gta è uscito cross gen te lo stanno rivendendo nuovo per la nuova generazione sono passati i periodi lo hanno rifatto e se lo fanno ripagare cross gen ragazzi santo cielo non ci vuole tanto poi mi fate incazzare poi ci sta non essere d'accordo con me ma quantomeno capitemi quando parlo si che mi costringe a parte dei contenuti non sono sono soft wall di livello di equipaggiamento veramente dorian io non ho mai sentito nessuno che mi ha detto sono costretto a pagare per giocare in game e io ho giocato tutto tutto coso phoenix rising non ho non ho avuto problemi non ho dovuto sborsare un centesimo idem coso watch dogs entrambi i titoli che hanno il cross gen cambio gratuito tra l'ultimo del si che non ti è piaciuto eh vabbè però quelli sono contenuti a parte è vero non mi sono piaciuti del si è così che li pago volentieri 10 euro in più per non avere le microtransazioni ma perché cosa non ho mica capito cioè io non ho io non le ho pagate le microtransazioni nei giochi Ubisoft quindi non capisco di che parlo io ho giocato tranquillamente senza pagare 10 euro in più e neanche una microtransazione i giochi story driven non non so anch'io mi hai sborsato un euro per giocare i titoli Ubisoft tranne il gioco e infatti infatti c'è una mano nell'occhio magari non è quelli che hai giocato tu manca solo Assassin's Creed gli altri li ho giocati tutti e Assassin's Creed non ho giocato per un ovvio motivo non ho tempo da dedicarci so benissimo che ormai è diventato un brand a cui non mi posso affacciare e fine forse parliamo di motipee tipo Rainbow ma anche Rainbow ci ho giocato abbastanza ai tempi non mi ha mai costretto a pagare dei soldi far cartese per le microtransazioni penso di sì cioè ce ne hanno tutti però anche lì non ho pagato niente il gioco l'ho finito come lo diceva sembrava che tu sei costretto in ogni gioco Ubisoft a pagare per andare avanti non mi pare a parte essersi iscritti ho giocato tutti e finito tutti senza pagare un centesimo grazie a Castlegar per i suoi quattro mesi ricordo il passaggio da play 3 a play 4 tipo Battlefield poteva avere la versione next gen a 15 euro però si applicava la versione solo disco e se non l'avevi più 15 euro buttati è un periodo diverso però in questo cambio da play 4 a play 5 series Xbox One the merda come cazzo si chiamano le console Xbox porca troia da Xbox a next gen nessuno ha fatto più pagare niente a parte Sony per il most important sono obbligatori se sei stronzo e vuoi le skin e vabbè cosa c'entra sono skin non ti non ti bloccano non sei costretto a pagare cioè pagare 10 euro in più per lo stesso gioco solo che è leggermente più bello perché ricordiamoci i giochi next gen per console non sono next gen hanno la zavorra della old gen quindi cos'hanno il 4k probabilmente un free rate maggiore e in generale qualche effetto qualche qualità in più però sono tutti i giochi che hanno la zavorra della old gen dietro non ci sarà mai nulla di rivoluzionario come si diceva prima in Nemo 6 non paghi anche gli operatori capito grazie al cazzo Dorian però tu mi stai confrontando un gioco online con le stagioni con tutte le novità rispetto a un gioco story driven non sta nel cielo né in terra anche in Super Smash Bros paghi per avere gli ottatori in Mario Kart per avere i nuovi circuiti mi sembra abbastanza normale come cosa arrivo eh cosa c'entra con pagare 10 euro in più per giocare a Spider-Man cioè io ho giocato tutto Spider-Man un girito su Spider-Man super 5 me lo farei devo pagare 10 euro non l'ho comprato gli operatori li puoi comprare giocando tanto se vuoi averli subito li shoppi esatto ma non è vero Dorian se giochi tanto non ce l'hai quel problema lì come ti dicevano anche gli altri in chat poi purtroppo Assassin's Creed è l'unico titolo che non ho giocato fino in fondo tutti gli altri sì e ti posso assicurare che non è vero quello che dici attenzione non ho fatto la pipì ammazza Harry Potter sesso hai ragione Gabriele è vero questo è vero me lo merito grazie vanno 8 come il numero 8 ah sì mi ricordo allora le grafiche sono molto belle gameplay e cinematic ok questa è una cinematic ed è su play 5 e questa è cinematic allora ci sono alcune cose veramente belle altre alzo il volume eh si vede che cross gen bastardo che bello però ok 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 ricordiamoci che sono nel 1800 quindi graficamente deve andare peggio molto bello gli amici sono veramente belli oh no la porta che si apre dandogli le testate alcune scene sono un po' brutte ma sono scorriggiase challenge l'animazione non so niente male ma neanche le espressioni mi stanno dispiacendo c'è c'è qualcosa che non figo mi sa come si fanno quella roba lì la parte più difficile credo sia effettivamente il gameplay rendere efficace un gameplay dove devi muovere la pacchetta non deve non deve essere semplice bello speriamo che sia open world e non a livelli madonna cazzo tanta roba comunque i fantasmi giustamente li possono mettere si se è open world è tanta 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 roba è un po' legnoso in alcuni punti vero il quindici no ah ecco l'animazione ma che cazzo di lavoro secondo voi spara la data stasera se esce anche questo a novembre è finita non abbiamo più tempo per far niente è molto legnoso in alcuni punti sì si vede che non è speriamo vediamo come gira però per essere un primo capitolo sai che figata se magari ne fanno altri migliorando la situazione Warner ha detto che esce quest'anno ecco vedi gameplay gameplay non dico che è un mmo però vabbè le immagini sono molto belle però che altro 10 novembre uscirà Pokemon uscirà God of War Zelda non so se avete visto ma sono stati bene attenti a farci vedere solo cutscene a parte quello sprazzo di gameplay Starfield ecco vedi anche queste rocce che si uniscono sono tutte cose belle ma sono tutte durine l'avessi fatto ad esempio Sony sarebbe stato incredibile ecco questa anche questa cosa qua e non il combattimento parlavo del troll che è un po' così però figo 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 tanto di cappello a sti sviluppatori che hanno tirato fuori sta roba speriamo sia divertente il gameplay è la mia unica preoccupazione adesso grazie Gianluca sembra davvero figo si parlava di settembre come data d'uscita addirittura no i nemici nell'open world non sono il massimo vedi questi combattimenti qua un po' aperti però figo dai bello bello che prendi sembra vario si in realtà più o meno sembra vario perché c'ha la magia che attira la magia che colpisce la magia che gli toglie l'arma questa no non c'era ok quindi c'ha delle magie base probabilmente più qualche finisher magari vedi che c'era sempre quella rossa quella gialla che attira o per adesso comunque tanta roba ok elementi gdr strano le magie sono straordinarie da esteticamente stonano infatti con il resto sono troppo belle l'idea di di visitare tutto il mondo così è veramente bellissimo acchio e questo è un altro sogno che ho sempre desiderato da un bambino fare tutte le lezioni quindi non solo la magia ma anche pozioni le bestie ah figo te le fai te le fai e te le bevi gran lavoro ragazzi gran lavoro bellissimo ho capito cosa mi stona il mondo è fermo se guardate gli alberi durante i combattimenti sono tutti fermi questo è terribile vedete l'erba non c'è aria non c'è vento c'è giusto l'erba che fa leggermente così ecco cosa mi turba vabbè che adesso sto giocando alle righe ed è tutto così esagerato puoi anche volare in giro porca troia chi vol lei non ha nessuna colpa gattone ma per sbaglio sono complicati la pubblicità su Twitch boh grazie per il gioco io ho cambiato il sistema di pubblicità però alcuni dicono che non ne hanno altri dicono che ne hanno troppo mi dispiace comunque ragazzi sembra tanto bello eh c'è poca roba viva è vero a parte questo cosino che è il chick di ma com'è vestito quel signore ma è il pixie era quello che non c'era nei film il poltergeist grazie per i 51 mesi peevs mamma mia gran lavoro veramente porca troia ecco vedi qua dentro è molto più vi ah ti ti crei tu la stanzetta ah c'è anche un cooldown è veramente MMO allora questa cosa del tempo non so se mi piace eh vedete le animazioni sono un po' durette in determinati casi perché? cioè non che non sia bello però perché non ho capito perché mi faccio una casa qui questo esce multipiatta ragazzi è work in progress sì però non credo che cambi molto da qui in poi eh soprattutto se esce quest'anno anzi speriamo che giri bene grazie a pizza signor gattone ringrazio per la compagnia a lei grazie mille perché sembra pieno di roba da fare no non credo ci sia un mondo babbano ma anche bene così direi e queste sono fondari addirittura le merlinate cazzo ma sapete che mi ha messo veramente voglia di giocarci che cazzo la gringot ma quelli canon che in aeroporto ci sono zombie c'è che potevi crearti la tua stanza come quella di animali fantastici dentro la valigia sì sì ma ah era dentro la valigia scusa ho capito male artemix perdonami sono un coglione e dentro la stanza di necessità ti facevi la crafting table tanta roba data voglio la data dai ho l'edito i mila viti no anche questo esce novembre no ce la facciamo non ce la facciamo più non giochiamo più dai aspetta fanno vedere quella roba pensavo fosse no anche questo novembre ragazzi magari dicembre sì lo stesso però come facciamo a stare dietro a tutto non è un'esclusiva è molti piatta ha ragione sono d'accordo la lore del wizarding world è già così ricca e tutto che abbiamo dovuto fare era sfruttare questi elementi a lì e a un aspetta cosa c'è a novembre allora non hanno ancora confermato ma molto probabilmente ci saranno Zelda God of War Starfield? Deve uscire in novembre? Starfield? Non mi ricordo se avevano già detto novembre o cosa Ricky vai a Sciallo, lo rinviano non fanno tempo, esce a gennaio 11 novembre Starfield Bello carico, è un periodo grosso quello è single player, Pietro, questo sì Zelda e God of War secondo me escono per forza anche quelli in holiday 2022 poi mi piacerebbe uscissero prima però sono titoli di punta esce il nuovo Pokémon a novembre anche mi sembra veramente tanta roba multipiatta significa che esce dappertutto che inizia a 15 anni è la storia di quello che hai fatto in the Wizarding World che hai mai visto prima o facciamo il nostro magico con il nostro storia che ci stiamo facendo Fanno conoscire con il Wizarding World da 1900 e on ma ora con questo mondo abbiamo potuto creare un spazio che è il nostro Fanno di questa serie sapere che l'anciento magico è stato un po' per un po' per un po' per un po' e che Hogwarts è un po' per un po' e l'avatar, il player ha la capacità di sensare e possibili o controllare il nostro processo di sviluppo inizia con il riluppo dei libri e con il riluppo abbiamo riluppo dei libri molte volte ogni volta al quinto anno ha detto che inizia forse per togliersi del cazzo tutte le spiegazioni iniziali anche Karim il combattimento vi preoccupa il combattimento è l'unica roba che chissà quanto l'hanno fatto grande non esce su Xbox veramente non lo fanno uscire su Xbox questo qua no è multipiatta che cazzo dite Hogwarts Legacy sarà disponibile in versione PC Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series XS ma che dite? chi è lui? chi è lui? l'abbiamo già visto l'art director sì ma l'ho già visto da un'altra parte da un'altra parte forse ma l'online spero che non ci sia io l'online io l'ho già visto lui l'online in stile front software ci starebbe e se lo fanno male? lasciate l'online ai giochi online non c'è bisogno di metterlo dappertutto non serve l'online diventa bello uguale e io ho paura solo per il gameplay molto bello molto bello see you next time bello bello non posso dire altro bello ma una co-op ma perché? perché? avete così bisogno di giocare con altre persone non potete godervi un gioco per i fatti vostri? che ti serve la co-op? goditi il gioco e basta per quanto sei d'accordo sull'online sicuramente lo faranno in stile Dead Redemption 2 ok dice la GTA online è difficilissimo è veramente difficile mettere in su un'impalcatura come quella sarebbe bello però è difficile difficile un online dedicato solo all'online ok però il gioco va benissimo single player un online alla GTA ok voglio proprio vedere non lo fa non sono capaci meglio non farlo che farlo male in alcuni punti del gameplay sembrano effettivamente in due ma perché probabilmente c'è il companion di un Gabriel spero solo che le case non siano a caso e che sia tipo un quiz come quello su Ways on the World è perfetto single il multi è sempre un problema se non sai farlo infatti soprattutto per me per gli sviluppatori che sono per il loro background hanno fatto un lavoro eccezionale vediamo come gira perché ovviamente vediamo come gira visto che ovviamente stiamo parlando di una roba mostrata ad hoc come volevano loro devo dire quello che ho visto mi è piaciuto da morire la casa la scegli tu in teoria no qui ne ho detto a battle royale bellissimo ti prego ho comprato una 360 almeno i 60 free posso averli vabbè mi sono fidato di pokemon company mi fidano anche di loro ammazza allora io ho fatto il test su wizardry world ed ero griffondoro però c'era anche del serpe verde non mi ricordo se mi aveva dato un 50 e 50 però mi ricordavo che era griffondoro e anche serpe verde non si non mi ricordo se mi aveva dato una percentuale ho questo ricordo qui può dare un 50 e non me lo ricordo e sono sicurissimo del griffondoro ma mi ricordo anche del serpe verde ho fatto test l'altro ieri colesterolo alto no non lo faccio adesso anche perché tutto in inglese mi vergogno lo rifarò se lo segui misto lo rifarò magari con calma mi è piaciuto molto comunque mi è piaciuto veramente molto alla fine del test 650 e 50 ah ok me l'ha fatta scegliere allora e allora sì e allora e allora c'era il 50 e 50 perché mi ricordo proprio questa cosa sia griffondoro che serpe verde la play 4 leggerà il peso del gioco certo a 30 frame con cali a 12 e con la grafica quello che è io non vedo l'ora che la all gen muoia per goderci finalmente la next in tutto lo suo splendore detto questo vi ringrazio per la compagnia vado perché c'ho una cacca incredibile che mi deve uscire dal culo e anche dal culo del mio cane perché lo devo portare fuori noi ci vediamo domani mattina con elder ring venerdì finalmente grazie a tutti belli e buonanotte